Esatto, esiste un abbigliamento comunque consigliato se nell'invito, perché non parliamo solo di prima la scala o di spettacoli, ma anche di eventi musicali, anche oppure con un unico anello importante. Questa cena dal Presidente del Senato Marcello Pere è stata oggetto di numerose polemiche giornalistiche, di grandi strascichi polemici, perché il Presidente del Senato aveva invitato soltanto 27 di noi, 27 colleghe, facendo una lista di teatro. Esatto, esiste un abbigliamento comunque consigliato se nell'invito, perché non parliamo solo di prima la scala o di spettacoli, ma anche di eventi musicali, anche oppure con un unico anello importante. Questa cena dal Presidente del Senato Marcello Pere è stata oggetto di numerose polemiche giornalistiche, devo dire di grandi strascichi polemici, perché il Presidente del Senato aveva invitato soltanto 27 di noi, 27 colleghe, facendo una lista.